Pronto? Buonasera, io proprio adesso ho acceso perché ho avuto da fare e non so, c'è un argomento particolare, non lo so. Noi stiamo parlando di tutela dei consumatori. Comunque volevo dire questo, mi scusi sono un po' affannata perché sono rientrata ora, io sono anziana. Un'anziana con mille problemi che nessuno mette in considerazione. Primo punto, non vorremmo sentire più la parola povertà. Una volta c'era la plebe, poi servi della gleba, poi il terzo stato. Chiamatelo disagio sociale. Noi non è che siamo nati per essere poveri, sono le circostanze della vita che hanno creato questi disguidi. Vabbè, chiudiamo questo. Sì, sì, signora, ecco perché... Mi scusi, ora no, siccome anche Bersani è diventato francescano, ora sono tutti francescani, vabbè. Comunque volevo dire questo, che sul Corriere della Sera e anche sulla Gazzetta ho letto l'altro giorno che per quanto riguarda gli sparmio, l'Italia sta bene. La Puglia è una delle regioni dove c'è il maggior sparmio. 48 miliardi sono stati depositati alle banche, quindi qui in Puglia non c'è la povertà. Ci sono solamente disagi sociali. Grazie mille, signora, per il suo intervento. Salutiamo e ringraziamo la signora che ha approfittato, diciamo, dello spazio che si chiama SOS Telebari, comunque per dire la sua. In qualche modo quello del risparmio e delle povertà, delle nuove emergenze sociali, sono dei temi che voi vivete e senza dubbio che naturalmente portano tanta gente poi a contattarvi. Ma di questo la signora ci scuserà. Mettiamo un attimo tra parentesi, ne parliamo senza dubbio, in questo spazio era già in previsione. Però invece parlavamo della questione delle liberalizzazioni. Quindi il fatto di avere più compagnie che si contendano un cliente, per quello che voi avete potuto constatare, è stato effettivamente un vantaggio per gli utenti? O si rischia di incorrere più facilmente in fregature, e torniamo ad utilizzare questo termine che poi significa molto? Occorre fare dei distinguo. Nel settore delle telecomunicazioni, della telefonia, la concorrenza ha operato e ha operato correttamente, cioè secondo le logiche del mercato. La concorrenza di fatto è un sistema che determina una diminuzione dei prezzi e un miglioramento dei servizi, quindi è il cosiddetto sistema perfetto, quasi perfetto. Quindi quando effettivamente la concorrenza è reale, come nel sistema delle telecomunicazioni, dove ci sono molte società anche appartenenti a gruppi stranieri che concorrono con quelli italiani, in effetti c'è stato un miglioramento nel corso dei dieci anni del servizio, anche complice l'intervento dell'autorità garante delle comunicazioni, del Corre con Puglia, qui nella zona del territorio pugliese, che hanno effettivamente disciplinato con degli interventi in alcune volte severi il mercato, per cui il mercato si sta autoregolamentando nella maniera più giusta, con il risultato che le segnalazioni di disservizi sono diminuite, quindi i disservizi che vivevamo e che vivevamo indirettamente, purtroppo un tempo sono scomparsi, quindi l'attivazione di servizi arbitrari. C'è stato un periodo nei primi anni 2000 in cui le compagnie telefoniche arbitrariamente attivavano servizi di telefonia oppure servizi di internet quando l'internet era agli albori. Forse adesso gli utenti sono anche un po' più accorti e un po' più esperti. Gli utenti sono più accorti e più esperti. Ci sono ancora dei disservizi di natura tecnica, quindi l'attivazione proprio materiale del servizio per la quale ancora alcuni gestori hanno delle difficoltà, però notiamo che anche negli ultimi anni c'è una risposta dei gestori molto più attenta e molto più accorta alle istanze e alle doglianze degli utenti. Quindi questo è significativo. Questo per la telefonia però. Questo non accade, complice in questo caso in negativo, l'autorità per l'energia e per il gas, nel settore dell'energia e del gas, laddove al nostro avviso, ma questa prendetela come un'opinione personale, un'opinione di categoria, è una concorrenza molto affievolita, molto sfumata, per non dire simulata, perché riteniamo a nostro avviso che ci sia tra le varie compagnie, tra i vari gestori, non una concorrenza vera, ma un accordo probabilmente neanche esplicitato, un accordo forse commerciale di natura economica, un accordo spontaneo, per cui in realtà i prezzi aumentano, passare al libero mercato significa molto spesso per gli utenti vedere raddoppiate le bollette, anziché diminuite. Con l'aggravio, che in certi casi, questa è da sottolineare, da denunciare, con l'aggravio determinato da alcune pratiche estremamente scorrette, abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di utenti, soprattutto anziani, che hanno ricevuto citofonate a casa da parte di ragazzini che entrati a casa con una finta targhetta di qualche gestore di compagnia, di qualche gestore di energia elettrica, sono entrati con la semplice lettura del contatore o della bolletta del codice fiscale, hanno commutato il contratto in un contratto, da vecchio contratto di energia elettrica, al contratto del libero mercato, all'insaputa dell'utente che dopo un paio di mesi si è vista pervenire delle bollette, delle fatture, del tutto inaspettate, del tutto inattese. Diciamo che questa è una segnalazione che è arrivata anche a noi e posso testimoniarlo anche io, nel senso che si vedono spesso girare. Allora, come si distinguono poi gli operatori seri da quelli meno seri? Allora, in realtà non c'è questa possibilità perché c'è un mal costume generalizzato. Ormai la battaglia la si sta facendo, almeno in questa fase, in quel settore, a colpi di pratiche di questo genere, pratiche molto disinvolte, chiamiamole disinvolte, molto coraggio, molto temerarie. In realtà si tratta spesso di ragazzini che hanno bisogno dei soldi e vengono pagati veramente al soldo, cioè vengono pagati alla giornata, ad ore, e quindi pur di arrivare a 10 euro giornaliere sono disposti a tutti, d'altro canto, de-responsabilizzati in questo. In altri casi si tratta, per quanto riguarda i contratti stipulati via telefono, di operatori che parlano una lingua straniera, molto spesso sono rumeni o albanesi, con il rispetto per i rumeni e gli albanesi, però spesso non conoscono neanche la nostra lingua e quindi non offrono chiarezza, ma per necessità non possono offrire chiarezza nei dettagli che invece la legge imporrebbe. Noi suggeriamo, sembra drastico dirlo, suggeriamo alle persone, soprattutto più anziane, di non rispondere al citofono, quando dovesse, può sembrare strano e forse estremo, ma almeno per il momento, meno fino a quando, non riteniamo che ci sia un rientro di questa situazione, entro limiti ragionevoli, perlomeno della ragionevolezza, se non della legalità, riteniamo che sia la soluzione migliore quella di evitare di far accedere presso la propria abitazione, perlomeno sul pianerottolo, magari se dovete, siete costretti ad aprire il portone del palazzo, apritelo, ma sul pianerottolo bloccate, dice, non fate entrare nessuno che millanti appartenenze a gestori di telefonia a società elettriche o a società del gas. Evitate questo. Anche perché in questi casi, poi spesso, la truffa è quasi la migliore delle ipotesi, nel senso che poi ci sono anche tanti malintenzionati che si nascondono nella peggiore delle ipotesi, per cui si rischia poi che il problema sia addirittura peggiore, quindi quello io penso che sia un consiglio da dare alle persone anziane, assolutamente in generale. E poi il problema è aggravato dal fatto che gestire poi il rientro alla vecchia compagnia elettrica è complicatissimo, perché anche in questo le compagnie elettriche hanno assunto un atteggiamento quasi di superiorità, nel caso di dire, per cui vivono la migrazione del proprio utente, del proprio ex cliente dalla loro società verso altra società elettrica come un'offesa e quindi pare che si offendano, per questo e quindi il loro rientro, il rientro a casa è molto complicato. Quindi è giusto dire e ultima cosa e poi magari chiudiamo questa parentesi drammatica, non funziona molto bene ancora l'autorità del garante, l'autorità di garanzia di Milano che ha sede a Milano che nonostante le denunce e le sanninazioni continue della nostra associazione e di altre associazioni dei consumatori pare non rispondere a dovere alle lamentele della base, pare non avere o gli strumenti sufficienti o non adottare gli strumenti sufficienti, i provvedimenti necessari per poter calmierare il mercato. Calmierare il mercato e questo chiudiamo con una considerazione che mi permetto di fare particolarmente importante in un momento di crisi come questo in cui insomma se un utente viene truffato, si trova a pagare di più, beh, voglio dire, peserebbe comunque ma pesa a maggior ragione quando l'abbiamo sentito i pugliesi fanno le formichine e cercano di mettere da parte i risparmi per tutelare le proprie famiglie e i propri cari in un momento difficile come questo. Siamo in chiusura di questo spazio, salutiamo e ringraziamo l'Avvocato D'Urso ma prima ci ricordi i vostri contatti per incontrarvi come bisogna fare? Allora, la nostra sede diciamo geografica è in Via Melo a Bari, il nostro numero di telefono è 080 521 8605 abbiamo un sito internet riceviamo le email quotidianamente e quindi abbiamo comunque l'indirizzo mail se non le chiedo uno sforzo di memoria eccessivo eccessivo non me lo ricordo l'indirizzo email va bene comunque sul sito internet sul sito internet ripetiamo allora il numero di telefono 080 521 8605 8605 per cui per qualsiasi dubbio potete contattarli dunque salutiamo e ringraziamo l'avvocato D'Urso tornerà a trovarci nelle prossime puntate dell'SOS grazie mille invece voi grazie per averci seguito restate con noi su Telebari l'SOS Telebari torna il prossimo martedì in compagnia del presidente dell'AMI Gianfranco Grandagliano l'SOS Grazie a tutti